Io lavoravo a Bormida ed era un lavoro prettamente, invece di non fare niente ho trovato quel lavoro lì, per non stare a casa a chiedere soldi ai genitori e ho detto nel frattempo che cerco un lavoro come voglio io o che mi soddisfa, che abbia uno stipendio un po' adeguato, sono riuscito a trovare un lavoro tramite una società interinale a Carcare, poi avevo già portato curriculum in tutte le società interinali, poi alla fine dopo un anno che non mi chiamavano sono andato io a chiedere come mai non mi chiamavano e una società interinale in particolare mi ha detto ma noi stiamo lavorando con la Piaggio se gli interessa, mi interessa sì, dopo due giorni ho avuto il colloquio e il giorno dopo subito mi hanno telefonato che mi avevano accettato se volevo entrare già a partire dal 2 gennaio 2006, ho risposto di sì e sono entrato direttamente, era un periodo che assumevano tanta gente perché c'era parecchio lavoro e avevano bisogno di parecchie persone, inizialmente mi hanno fatto entrare in un reparto di carpenteria perché avevano bisogno di carpentieri, poi da lì ho spaziato in diversi altri reparti, poi conoscendo magari alcuni capi, conoscendomi una cosa o l'altra mi hanno preso con loro oppure a me mi interesserà più un lavoro piuttosto che un altro e mi hanno preso, al fine adesso sono capitato nel reparto motori e lì sono diventato un operatore a controllo numerico, volgarmente detto CN e faccio andare tre torni a controllo numerico, facciamo dei pezzi per degli elicotteri canadesi e anche per gli Augusta. Quando entri in un reparto ti affiancano subito una persona più anziana o che sa già il lavoro, ti insegna tutti i trucchi, tutti i modi per poter lavorare ed eventualmente se ti capita a qualche problema, come risolverlo? Io ho incominciato con la carpenteria, in carpenteria facevo i flap dell'aereo, dalla carpenteria sono andato a controllo numerico velivoli dove lì facevo i pezzi dell'aereo del P180, quello che facciamo ancora adesso e poi quando c'è stata la crisi nel 4-5 anni fa, dei velivoli che praticamente si diceva che veniva improntata la produzione di tutti i suoi motori, molti dei miei colleghi e io siamo stati spostati giù ai motori dove siamo tuttora e anche lì abbiamo dovuto iniziare tutto da capo, quindi essere affiancati a dei colleghi, imparare i nastri perché poi non è che fai un lavoro solo in quella macchina lì, fai diverse lavorazioni di particolari diversi, quindi ogni particolare ha delle fasi di lavorazione diverse e per ogni fase devi capire e devi immaginare, poi a forza di farlo poi ti viene meccanico, la macchina se gli dai una determinata correzione come si comporta, se gli dai 2 centesimi di correzione magari lei te ne prende 4, allora gliene devi dare in meno, ogni macchina c'ha, anche se è nuova purtroppo, però è una macchina quindi devi starci dietro. 4-5 macchine sono state prese dopo che ci siamo trasferiti a Villanova, per esempio uno dei torni che uso io è stato comprato, è arrivato un anno dopo che ci siamo trasferiti lì, altri invece sono state macchine, cioè erano macchine che erano a finale, sono state trasferite lì anche perché erano nuove, per esempio gli altri due torni sono arrivati nel 2008, quindi sono nuove anche quelli, per noi una macchina di 10 anni è una macchina nuova, se è tenuto bene, se si fa manutenzione come si deve, una cosa dura anche 50 anni. Tieni conto che Piaggio è nata 100 anni fa, più o meno, e quindi ci sono delle macchine che sono state poi rimesse a nuovo, vengono rettificate, adesso per esempio c'è un tornio fresa che è stato rettificato, praticamente se tu la vedi sembra nuova. Io ti parlo di torni tradizionali, di altre macchine più rudimentali, nel mio reparto ce ne sono 25-30, più o meno. Siamo un centinaio, suddivisi in tre turni di lavoro, quindi siamo parecchi. Nel reparto è suddiviso, gli operatori che lavorano sulle macchine, poi ci sono i banchisti che hanno il compito di sbavare quello che le macchine producono, perché la macchina non è che ti fa uscire il prodotto sbavato, senza bava, allora ci sono i banchisti che con gli strumenti si mettono lì, tolgono la bava, deve essere perfettamente liscia, poi ci sono due collaudi che provvedono a collaudare e vedere che tutte le quote che noi abbiamo preso e che la macchina comunque ha fatto, siano a disegno. Praticamente gli arriva il pezzo con la bava, allora loro hanno il compito di renderli lisci in modo da non essere taglienti, perché ogni bava crea una rottura nell'aereo e quindi si rompe il pezzo e quindi hanno il compito anche lì con carta a vetro e con i loro, noi li chiamiamo macacchetti, ma sono cosa d'aria compressa con rotondi che hanno il compito di, hanno la carta a vetro attaccata e sbavano e lisciano tutti questi particolari qua. Devi imparare, devi imparare bene anche perché ci sono degli smussi e se a disegno ti hai richiesto smusso di 45 gradi o di 30 e tu lo fai diverso, magari puoi non andare bene e buttare via il pezzo e sono pezzi che non sono fatti da un'unica macchina, quindi se tu prendi un pezzo che lì per lì ti sembra una cavolata fatto, però magari è un processo fatto da diverse macchine e quindi diversi operatori, tanto tempo e il costo può essere elevato, se tu butti via un pezzo che ti sembra inutile magari quel pezzo vale 10 mila Euro come niente, per esempio facciamo gli alberi dei Viper che quelli costano 80 mila Euro, ammazzi uno di quei pezzi lì, sono 80 mila Euro, perché a te non ti fanno niente, può arrivare un richiamo, stai più attento, la prossima volta, però è una responsabilità, perché dici ammazzo 80 mila Euro, per l'azienda è una perdita notevole. Hai presente, non so, quando prendi un pezzo di alluminio, se non passi un po' di carta a vetro ai lati, ti tagli, quella è la bava. Ammazzare vuol dire quando, non so, dai una correzione sbagliata a una macchina, la macchina la quota invece di fartela in un determinato modo, te la corcia, quindi non puoi, finché è grossa la quota, riesci a corciarla, quando ormai la quota è mangiata, diciamo, proprio in termini, non riesci più a rimetterci il pezzo, allora devi buttarlo via e noi diciamo un gergo nostro, hai ammazzato il pezzo. Noi siamo stati coinvolti nel senso che, vabbè, le mie macchine per esempio sono state le seconde che sono state portate via, in teoria io poi non avevo niente da fare, perché senza macchina, però abbiamo avuto poi, noi con le macchine via avevamo poi tutto il corredo a bordo macchina, quindi gli armadietti con gli strumenti dentro, con tutte le chiavi dentro, una cosa o l'altra, cosa abbiamo fatto? Abbiamo ordinato quelle, l'abbiamo inventariate, l'abbiamo messa in una cassa, l'abbiamo spettita direttamente là, una volta finite le cose per le nostre macchine, abbiamo aiutato gli altri colleghi a fare, man mano che le macchine andano via, i colleghi che, le persone che venivano, che rimanevano senza macchina, aiutavano gli altri e comunque poi pulivano il capannone, perché comunque sotto le macchine, figurati, macchine che poi sono incementate, non è che potevi pulirci sotto quelle cose, quindi abbiamo pulito tutto il capannone, poi c'era della burocrazia da fare, perché c'erano poi i pezzi che erano già in lavorazione, che bisognava trasportare giù a Villanova, quindi bisognava specificare che questi pezzi qua erano iniziati a affinare, perché essendo poi preditte esterne, quindi erano state iniziate a finale e saranno portati poi a compimento a Villanova d'Albenga, ancora adesso che sono due anni e mezzo ci sono le nostre fasi, finale Villanova d'Albenga. Deve essere tutto rintracciato, il pezzo dove è stato iniziato, dove è stato finito, anche perché quando sposti una macchina, dalla macchina cambiano la bollatura e tutto quanto, quindi le macchine sono state state mettere in bolla, una volta che sono state messe in bolla abbiamo dovuto fare per ogni particolare un pezzo, farlo collaudare per vedere che il pezzo a Villanova veniva uguale a quello di finale, in modo da non compromettere la qualità della produzione. È stata una cosa abbastanza laboriosa, abbiamo iniziato a giugno del 2014 mi sembra, perché sono due anni e mezzo che siamo lì e hanno cominciato a portare via la prima macchina a giugno del 2014 e abbiamo finito l'anno dopo, perché la fabbrica è stata inaugurata poi a novembre dell'anno successivo e hanno preso un'azienda, una società che è veramente in gamba, fa solo quello di mestiere, ma riusciva proprio a smontare le macchine in un momento, le caricava, le portava là direttamente e le rimontava subito direttamente e quindi noi per motivi pratici e di sicurezza a Villanova non potevamo lavorare perché c'erano sempre in movimento questi camion, perché erano camion grossi e poi perché c'erano tutti i fori nei pavimenti per le macchine, per inchiodare, però avessimo voluto potevamo già dopo pochi mesi lavorare già a Villanova. Alcune persone, ma poche sono andate in prepensionamento e ce ne sono qualche d'una in cassa integrazione, anche perché poi c'è anche Genova che si è trasferita a Villanova dal Benga, quindi ha chiuso tutti e due gli stabilimenti e li ha portati tutti là. Noi adesso attualmente siamo più, adesso negli anni massima, un centinaio siamo lì nel mio reparto, c'è stato un momento un po' di molla, però quest'estate, però c'è lo lì invece siamo un capannone unico e quello di già è un vantaggio, anche perché per andare da un reparto all'altro non devi andare fuori, pioggia, allagamenti, perché a volte a finale si allagavano anche i reparti, mi direi un capannone di 100 anni e manutenzione, poi si sapeva che dovevamo andare via, quindi sì, i reparti sono belli, sono nuovi, si ci lavora bene, forse l'unica cosa che secondo me, secondo i nostri colleghi difetta è che non ci sono di finestre, no, sono quelle fabbriche, fate come una volta, sai come vedi in Lombardia, che sul tetto entra la luce ma non fanno entrare i raggi solari e quindi a volte un raggio di sole magari ti mette anche buon umore, altrimenti è una bella fabbrica, come qualità è decisamente non ci pare che vuole. Il reparto motori è diviso nel reparto dove sono io e poi nella revisione, la revisione è quella che, lo dice la parola stessa, fa la revisione dei motori degli aerei, li smontano e collaudano bullone per bullone, rondella per rondella, dove se non funzionano sostituiscono e poi riconsegnano al cliente il motore. cliente che normalmente, io penso che è il nostro governo, il nostro forza armato, infatti facciamo la revisione per le frecce tricolore, per gli elicotteri dei carabinieri e così via, abbiamo tutti questi clienti che sono una buona cosa perché si sa che lavorare col governo è una sicurezza. Piaaggio non è una grande, è quotata, è conosciuta in tutto il mondo Piaaggio, però la sua peculiarità secondo me è il fatto che riesce ad arrangiarsi in qualsiasi difficoltà, nel senso che a livello manufatturiero, perché se c'è una cosa che non si riesce a fare con le macchine ci sono gli operai, ti dico operai però quelli vecchi, noi giovani che siamo appena arrivati, che comunque ti fanno un ingranaggio e tu stai lì a vedere che ti fanno un ingranaggio, ma come fa a fare questo ingranaggio qua? Eppure te lo fa, non sai neanche te come fa a farlo uscire, io inizialmente quando ho i suoi velivoli ero alle frese tradizionali e c'è ancora adesso che lavora, c'è un operaio che mi ha fatto vedere che faceva un ingranaggio, ma è una cosa assurda perché io ho detto figurati se riesci a fare un ingranaggio del genere, eppure lo fanno, si riescono ad arrangiare in qualsiasi caso, non so se mi sono spiegato, a volte rimani lì perché ten con la tua concezione di, vabbè è difficile, vado a comprare il negozio, oppure me lo faccio fare 10 figure, invece quello lì mi serve questo, si mette lì e se lo fa, ma anche qualsiasi cosa, ti dico noi abbiamo un reparto che deve, si chiama attrezzatura, fa attrezzatura per tutti e due i reparti, se ai due reparti serve qualcosa da mettere su un attrezzo, vai, fai il disegno, loro te lo tirano fuori, è una cosa bellissima perché ti risolvono la maggior parte dei problemi, sembrano proprio degli artigiani, però si arrangiano a fare tutto. Inizialmente ci siamo trasferiti noi, quelli di finale, in un secondo tempo, hanno messo a posto Genova, perché Genova comunque aveva degli scali con degli aerei sopra, quindi doveva finire quegli aerei per le consegne, noi invece eravamo riusciti a fare magazzino, quindi il tempo per poter trasferire e poi abbiamo cominciato subito a lavorare. Circa un anno dopo è venuta a Genova, hanno portato gli scali lì e hanno cominciato a lavorare direi circa un annetto fa. Andiamo tutti in Pulma, hanno organizzato dei Pulma che da Genova portano a Villanova, da Savona e da Finale. Fai conto una cinquantina a turno, più o meno, se non ero, perché i Pulma sono più o meno da 47-50 posti. Poi ci sono anche tutti gli impiegati, io adesso sto parlando di operai, poi ci sono anche tutti gli impiegati, perché poi c'era il reparto impiegati laggiù, la palazzina impiegati laggiù e poi la palazzina impiegati di Finale. Noi facciamo i turni, loro invece fanno il normale, quindi iniziano alle 8 e finiscono un quarto alle 5. Noi facciamo 6-2-2-10, 10-6. Di notte ci sono soltanto gli operatori alle macchine e basta, cioè quelli che fanno tutto il resto dei banchisti, collaudi, non c'è nessuno. Ci sono, fai conto, ci sono 20-30 persone di notte, forse anche meno. E poi dipende sempre dalla molle di lavoro. C'è stato fino all'anno scorso che anche io facevo la notte, adesso nella mia macchina il lavoro è diminuito, di conseguenza le notti ce l'hanno tolte. Perché poi ogni macchina fa lavori diversi, quindi fai conto che per ogni particolare abbiamo un tempo diverso da fare. Anche io nelle mie macchine metti 10 particolari, per ogni particolare abbiamo un tempo per poterlo fare. Devo stare all'interno di quel tempo, se sforo di quel tempo non succede niente. Però magari perché la macchina potrebbe rompersi, l'inserto potrebbe rompersi e quindi danneggiare il pezzo, quindi cambiare il pezzo, devo fargli fare di nuovo la ripassata, una cosa o l'altra. E quindi noi abbiamo delle causali da poter inserire nella lavorazione del pezzo. E quindi l'ora può aumentare, può diminuire, di solito ci sono dei problemi, aumenta. Nel momento in cui poi ci vengono a chiedere qualcosa, perché noi ci insegniamo tutto, come mai questo pezzo qua ci avete messo 6 ore invece di 5? Guarda, mi è successo questo, questo e questo, quindi ho dovuto rifare la passata al pezzo, altrimenti veniva male e allora ci fa va bene, ok. Perché io ho 5 ore per fare un pezzo, se ne uso 6, per loro è una perdita, perché perdono un'ora di tempo di lavoro. Noi abbiamo il vetro, che possiamo guardare alla lavorazione e poi abbiamo il computer attaccato alla macchina, all'interno del quale ci sono tutti i nastri, i programmi per la lavorazione, per ogni particolare e per ogni fase c'è il suo nastro. All'interno del nastro ci sono i vari utensili, per esempio per fare una lavorazione ci sono 10 utensili, il programma richiama in ordine, in base al programmatore che ha fatto il programma, richiama le testine, fa la lavorazione, per ogni lavorazione poi di solito noi abbiamo da fare, per arrivare alla quota prestabilita, non arriviamo direttamente alla quota prestabilita, perché magari ci dice che la macchina ce la fa. Allora un po' prima il programmatore fa in modo che la macchina si fermi, facciamo un precontrollo, che di solito in precontrollo vuol dire, non so se io devo arrivare a 10, a una quota 10 mm, allora a questo precontrollo qua ti devi trovare a 4, se a precontrollo ti trovi a 4 mm, vuol dire che poi la quota finale sei a 10 mm, se a quota 4 mm io non mi cito, mi trovo a 3, cosa faccio? Gli do la correzione di 1 mm, dandogli la correzione di 1 mm in più so che poi arrivo a 10 e di conseguenza, io dico millimetri magari, sono centesimi, abbiamo degli orologini piccoli così, dove di notte poi soprattutto vederli è tragico, perché a una certa ora poi ti stanchi, noi viaggiamo sì sui centesimi, alcuni pezzi sui millesimi, quindi poi devono essere precisi quando vanno uno sull'altro. Il pezzo più lungo, se non erro, 8 ore e mezzo, va nel motore del PV200 che è un pezzo a cui poi va assemblato un altro pezzo che all'interno poi ci vanno tutte le palette per la compressione. La fabbrica è una bella fabbrica, a volte ti fa piacere, è inutile, quando hanno consegnato l'aereo, il primo aereo, la scorsa primavera al primo cliente di quelli che abbiamo fatto lì a Villanova ci hanno riunito tutti in due piazzale, anche a noi e quando te lo vedi a terrare è una bella cosa, perché dici cacca, lo facciamo noi. Oppure anche quando vedi i riflessi di colore che volano, non li faccio io direttamente, li fa la fabbrica, qui siamo tutt'uno in fabbrica, però dicono la manutenzione gliela facciamo noi. Un po' di soddisfazione c'è, poi a livello di dire quel pezzo lì l'ho fatto io o no, era più una cosa quando facevo i velivoli, perché quando facevo i velivoli io ero al banco, sbavavo i pezzi, però non sapevo quel pezzo dove andava. Poi c'era un altro reparto dove mi hanno trasferito che c'era l'aereo costruito e dove facevano le prove di rottura del materiale. Allora lì vedevo ogni pezzo che facevo, infatti dicevo questo qua l'ho fatto e va in quel punto lì, ho cominciato a capire i pezzi che facevo, di che parte facevano dell'aereo, quello lì è stato bello.